signori buonasera finalmente oggi possiamo iniziare un corso molto richiesto quello di intaglio come potete vedere i miei ospiti sono arrivati e ci siamo già organizzati abbiamo la frutta la verdura le attrezzature che per questo momento abbiamo uno spelucchino un coltello da frutta buoni piano piano pazienza si per lei possiamo tranquillamente qui c'è un po sacenere qui c'è un antico toscano normalmente non si può ma tranquillamente possiamo fumare siamo tolleranti bene signori pazienza con calma no il coltello così no piano piano che se non rompiamo tutti perfetto qui vanno tutte le bucce tutti i nostri scarti però prima di fare la pausa dobbiamo assemblare tutto il lavoro che abbiamo fatto il lavoro che abbiamo fatto è questo il risultato comunque una zucchina una calla fatta con finocche e carote che non finisce qui perché abbiamo anche fatto altre cose ora questo lavoro che abbiamo tutti quanti assemblato un centro tavola adesso accendiamo la candela questo è sempre un lavoro che poi si conclude con il contributo di tutti pazienza c'è un po di vento però porca miseria oddio 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 questo momento me lo ricorderò per un con un dito in meno sarò sempre con voi grazie infinite alla prossima lezione speriamo di non farne molta altrimenti rimango senza diti ciao ciao a tutti ciao 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 ciao